Oggi la Giunta ha approvato una delibera con cui ordiniamo a tutte le direzioni coinvolte, sociale, educativo e casa, di effettuare seri controlli sulla presentazione degli ISEE, cioè quelle dichiarazioni che attestano l'indice di ricchezza dei nuclei familiari, perché crediamo che vi siano delle situazioni di anomalia. A queste risponderemo con delle segnalazioni della Guardia di Finanza, la quale per competenza e per legge interverrà laddove vi siano delle effettive violazioni o effettive dichiarazioni mendaci. Nello specifico si è stabilito di rafforzare, su indicazione del Sindaco Luigi Brugnaro, il sistema dei controlli delle dichiarazioni sostitutive uniche prodotte dai cittadini in fase di richiesta di accesso ai servizi sociali, educativi o di esenzione dal pagamento di alcune tariffe. Da qui l'ordine a tutte le direzioni dell'amministrazione comunale che utilizzano l'ISEE come requisito di accesso alle prestazioni agevolate. Trattandosi di servizi alle persone in difficoltà e bisognose di assistenza, non possiamo tollerare alcun errore sull'effettivo stato di bisogno dei richiedenti, spiegano dalla Giunta. Per questo verranno utilizzati, diversamente che in precedenza, anche il sistema informativo dell'Inps, il protocollo recentemente istituito con la Guardia di Finanza. L'impulso viene proprio da quello, dover far capire alla gente che comunque se c'è una regola deve essere rispettata a favore di tutti. Questo è perché crediamo che le risorse che sono sottratte al sociale da chi fa il furbetto sono risorse in meno per i veri poveri, per le vere persone che hanno bisogno. È una questione di equità, di serietà e di senso civico che crediamo debbano essere rispettate.